L'ex calciatore Jack Charlton, leggendario difensore del Leeds United, che vinse la Coppa del Mondo con la nazionale inglese, è morto all'età di 85 anni. Il Leeds ha confermato la sua scomparsa, avvenuta venerdì 10 luglio al termine di una lunga malattia. In 23 anni Charlton collezionò 773 presenze, un record per il club, ed è considerato uno dei difensori centrali più forti della storia. Con la maglia della nazionale inglese collezionò invece 35 presenze e giocò tutte le partite del Mondiale del 1966, che i Leoni vinsero in casa, sconfiggendo 4-2 la Germania Ovest nella finale di Wembley. Charlton è stato anche un apprezzato allenatore, guidando la Repubblica di Irlanda in due mondiali e un campionato europeo durante i suoi 10 anni di gestione.